Gentili signori, vi dà il benvenuto la società Minipress.ru, che offre consulenza professionale per scegliere le attrezzature nel settore farmaceutico. Abbiamo un catalogo con tantissimi macchinari nuovi prodotti in Cina, India, Corea e Taiwan. Inoltre, ci occupiamo di ricerca dei macchinari usati in Europa e Russia. Vi aiuteremo a scegliere e consegnare macchinari del settore farmaceutico in Italia. Abbiamo un'esperienza pluriennale e conoscenza delle tecnologie. Nei nostri cataloghi troverete tanti video, foto, descrizioni e attrezzature. Ci bastano i campioni dei vostri prodotti per fornire le linee complete o solo macchinari. Inoltre, tutti gli accessori, confezioni, materie prime e materiali sussidiari. Consulente Roman Zivulski, telefono a Mosca 7495 364 3808, telefono a Minsk 375 29 308 0000, email info-minipress.ru, catalogo di macchinari www.minipress.ru barra catalog. Vi dà il benvenuto la società Minipress.ru, che offre consulenza professionale per scegliere le attrezzature nel settore farmaceutico. Abbiamo un catalogo con tantissimi macchinari nuovi prodotti in Cina, India, Corea e Taiwan. Inoltre, ci occupiamo di ricerca dei macchinari usati in Europa e Russia. Vi aiuteremo a scegliere e consegnare macchinari del settore farmaceutico in Italia. Abbiamo un'esperienza pluriennale e conoscenza delle tecnologie. Nei nostri cataloghi troverete tanti video, foto, descrizioni e attrezzature. Ci bastano i campioni dei vostri prodotti per fornire le linee complete o solo macchinari. Inoltre, tutti gli accessori, confezioni, materie prime e materiali sussidiari. Consulente Roman Zibulski, telefono a Mosca 7495 364 38 08, telefono a Minsk 375 29 308 0000, email info-minipress.ru catalogo di macchinari www.minipress.ru barra catalogo. Vi dà il benvenuto la società minipress.ru che offre consulenza professionale per scegliere le attrezzature nel settore farmaceutico. Abbiamo un catalogo con tantissimi macchinari nuovi prodotti in Cina, India, Corea e Taiwan. Inoltre, ci occupiamo di ricerca dei macchinari usati in Europa e Russia. Vi aiuteremo a scegliere e consegnare macchinari del settore farmaceutico in Italia. Abbiamo un'esperienza pluriennale e conoscenza delle tecnologie. Nei nostri cataloghi troverete tanti video, foto, descrizioni e attrezzature. Ci bastano i campioni dei vostri prodotti per fornire le linee complete o solo macchinari. Gentili signori, mi chiamo Roman Zibulski e sono proprietario del catalogo di macchinari del settore farmaceutico minipress.ru. Da 17 anni ogni giorno seguo i miei clienti nel scegliere, consegnare e sdoganare i macchinari del settore farmaceutico. Ogni anno partecipo alle fiere del settore farmaceutico in tutto il mondo. Il mio obiettivo è trovare modelli di miglior qualità da inserire nel mio catalogo. Nel catalogo sono presenti comprimitrici, blisteratrici, film coater e macchine di confezionamento. Vasta gamma di apparecchiature da laboratorio in versione da tavolo per iniziare il vostro business farmaceutico. Se non avete trovato il modello che vi interessa, mandate una richiesta e vi proporrò le migliori soluzioni. I miei clienti hanno la possibilità di confrontare non solo i dati dei macchinari, ma anche le tecnologie diverse grazie alle mie competenze accumulate in tanti anni di lavoro e all'esperienza propria e dei miei clienti. Nel catalogo sono presenti macchinari prodotti in Cina, India, Taiwan, Corea e in Europa. Il mio team vi aiuterà a fare la scelta giusta, acquistare e consegnare qualsiasi macchinario in Italia. Per qualsiasi chiarimento sono disponibile sul cellulare, via Skype o email. Grazie alla mia esperienza e conoscenza dei macchinari del settore farmaceutico, la vostra scelta sarà quella giusta. Vi aspetto come miei futuri clienti.